Finalmente è l'avverbio più corretto in questo caso perché la sistemazione con l'abbattimento e la realizzazione di una nuova tribuna allo Stadio Liberazione, i tifosi dell'Omenia e gli appassionati di calcio l'aspettano oramai da quasi 50 anni. Questa volta però ci siamo, sono cominciati i lavori con un impegno economico importante da parte del Comune, con un cofinanziamento da parte della Regione si abbatterà la tribuna lato ovest e finalmente verrà realizzata una nuova con 310 posti. Per onestà intellettuale devo dire che il merito non è tutto nostro, abbiamo ereditato un progetto iniziato dall'amministrazione precedente, l'abbiamo condiviso, portato avanti, cofinanziato, ci sono stati dei ritardi perché anche qui abbiamo dovuto aggiungere delle risorse, e quindi fare variazioni di bilancio, però diciamo che alla fine arriviamo a realizzare quest'opera, sono molto contento e speriamo che anche tutto il mondo del calcio ne traga un beneficio. Cosa significa per la città di Omenia avere questo restyling dello Stadio Liberazione? Ma significa intanto mettere in sicurezza una struttura che negli ultimi anni era veramente diventata pericolosa e poi significa, io mi auguro che possa significare anche per la società dell'Omenia Calcio e per tutto il movimento calcistico in generale della città di Omenia, trovare magari anche maggiore attrattività nei confronti di un management che ha bisogno anche di nuovi soggetti, di rinnovarsi e di avere nuove prospettive.